Sono riuscito a radunare sia l'hacker che il Dreser ragazzi Perché l'hacker mi ha detto che è una cosa molto molto importante da dire a Dreser E il messaggio del hacker ragazzi è Grazie per avermi portato Dreser Ho visto che ha fatto il provino ed è più scarso di me Però tutti lo volevano nel team e a me no Vabbè ci mancherebbe Casi si voleva rubarmi l'account Ma l'hacker ci fa bannare Ma infatti ma scusa è normale che i miei iscritti non lo vogliono nel team E' normale ti hai rubato l'account di Braga rischi di farci bannare Mi sembrava strano che non avesse ancora sbagliato la punteggiatura Ma lui non mi interessa Carlis Sì sì no ma guarda l'altra volta l'ha fatto molto molto di peggio Quindi mi sa che ha fatto anche un bel corso di Di italiano Sì 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 Comunque ha detto No non mi interessa Io mi immagino tipo con la voce robotica Perché non è una persona No non mi interessa No non mi interessa Ho due opzioni dai proporti Opzione N1 Mi sfidi in 1 vs 1 E se perdi ti cancello l'account Ma intende mi sa Mi sa che ce l'ha con te Mi sa che ce l'ha con te Sì sì Opzione N.2 Se non lo fa Con la centi quella voce Ah Gli cancello comunque l'account Ah ok 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 Quindi mi sa che non si è caricata sempre l'hacker qua Cioè se non lo sfidi Ti cancella l'account Se lo sfidi in 1-1 e perdi Ti cancella l'account Quindi un'inconzione è sfidarlo E vince Io non ti credo troppo Però dato che detti tu le regole Metti le mappe E andiamo Tanto a me non ruba niente Cioè te la vedi Ah vabbè Mi sono in fame calpise Ecco sì 3, 2, 1 Quanto ci impiega Noi stintanto stiamo aspettando Oh via via si parte Si parte Si parte Allora ragazzi Da quello che mi ricordo Dreiser è forte Però anche l'hacker era forte Ah l'hacker è la bella forte E anche mi sa che l'hacker Un hacker C'è Un hacker Hacker perché gioca 75 ore al giorno Non so se ha neanche secondo me È bello Delle 3rd Intanto Dreiser ha preso l'iground Sì è vero vero Dreiser ha preso l'iground Però Regala Secondo me Se vuole vincere l'hacker vince Però magari non vuole vincere Non lo so Boh Però Capisti dico che Non stanno usando le mitragliette E l'hacker era molto forte Quelle mese Vero Bella osservazione Bravissima Bello No comunque è molto strano Oh 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 3.0 Non morirmi Non morirmi Eh Perdi l'account Giocatori in posizione Adesso aspettiamola Che ragazzi Aspettiamo Ho paura Calpi Guardalo Guarda come build Oh mio addio Anche il resto è guarda che lo scherzo è una cosa particolare Voglio farvi notare E che l'hacker si è offeso per il fatto che nei commenti nessuno lo volesse nel team Ma per quanto voleva rubare l'account a me Sì Nessuno vorrebbe Porta Vole far notare Tanto lo sta distruggendo No Porca Voleva E vuol dire che è una persona con dei sentimenti magari pure un ragazzino Perché uno che si offende perché lo insultano nei commenti Cioè non è una persona troppo Vabbè una persona con dei sentimenti non sta lì a rubare account Ma magari lo fa perché in realtà insico è come il bulletto della scuola che ti tira Ti fa la smutanzata Capito Eh è la stessa cosa Ah io Di servizio Perché parlate in terza persona Oltre Vabbè la Perfetto No mamma mia Non si può così Non parlo di me in terza persona Io non sono un bullet Comunque Seconda Kill Mi sa che qua siamo messi veramente male Però Quando si arriva calpi Si arriva tre Però in teoria Non Non è l'unica mappa Dopo ce ne stanno altre di sfide Quindi magari ci stanno altre sfide Un po' più Decenti Perfetto Perché mi sa che per Nella beat fight Diciamo un po' Oh mi sa Però è Brutto miss Adesso place L'avrebbe colpito Eh sì certo Place Proprio Piacenza Oh dobbiamo far sfidare Place con la hacker No no meglio di no Mi sa che l'account glielo cancella proprio instant Comunque attenzione mitico drager è 48 di danno Ce la puoi fare eh Questa fight Ce la puoi fare Devi solo a tryhardtela un bel po' Devi giocartela proprio Che altri sei in high get La puoi gestire molto bene Sì sì Guardalo Attenzione vai spam No No niente Dai hacker Guarda come sia Tra un po' raggiungete la galassia Ho bisogno No Provo Trazer Dai ragazzi mi spiego L'abbiamo io li ha tolto un sacco di vite No Travolo Travolo Allora io ti consiglio prova qualche flick A caso но Tipo Grazie girls Ehm Tantacimona babies 54 Hp C'ha Un colpo Muore No 55 Attenzione A Convenzione siamo tornati a guardare di nuovo trader vediamo un pochettino come se l'accaverà è perché questo file secondo me gli ha fatto abbassare molto l'autostima spero è sincero che sono due a la terra distrutto però veramente stra forte sto qua più che anche secondo me fa molto ridere devo essere sincero fa molto ma perché mua è perché cattivo dato che sei troppo scarso prova a battermi ma usando le c'è no no trader non cadere nel lato scuro reggi dopo seguimi ti porterò nel mio mondo c'è lui vuole che tipo tu usi di hack contro lui proveremo proviamo però magari vuole tipo attirarti no con un cattivo che vuole farti portare nel mondo degli altri va bene eccoci qua nel mondo dell'hacker abbiamo la principessina che adesso dovrebbe portarci nel suo mondo il suo mondo di hacks vediamo un po che eccola vediamo cosa fa basta ballare si 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 aspetta un secondo che ti uccido però non vale che tu usi le hack le posso usare c'è la picconata fa 80 per farvi capire qualcosa mi dice che questo 1v1 vincerà proprio 3 0 a mani basse fa il quadruplo del danno 3 2 1 vai aprite 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 let's go ecco la parte caldo si parte adresa piccolo consiglio tu a sciotti le bilde one shot in tutte le manciotto le visi con la picco perché tu conosci l'acca meglio fatti gli scherzi pure io non è che sono fuoco che sono si fa fai più da anni comunque spara tu triter spara fidati non serve che video fai cose assurde ma non si spari ma guarda 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 prendi lo prendi lo prendi lo distruggilo mangialo ma non è non è fatto danno shoot 1 0 per 3 0 fight numero 2 1 2 3 andale andale comunque una sfida seria non vorrei ma che cavolo sto dicendo scusa 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 vai continua a sfammare sempre di oh va calpis magari si cavolo magari si cavolo ma va rovino i suoi piani non lo so secondo io me lo immagino tipo tutto puzzolente la sostanza che vabbè mi è immaginato ecco mettere immagini braga ma non lo so c'è di sicuro ho messo meglio di me i telecari visto che io ho un po di febbre non gli cadono di tipo i capelli ma no dai poverino c'è non iscrittiamo lo capisci anche le cinque perché vero ma poi tu prima hai detto ve lo immagino poverino che se la prende una bella adesso adesso io ho detto ma l'ha ucciso tre ore terzo e ultimo fight nel caso di vittoria di mitico 3 è comunque mitico dread vai spara testo sicuri nike c'era il proprio demonio allo spazio deve fare la che poverino e lì tutto spaventato parte che ha deciso lui quindi non può neanche lamentarsi comunque io sento un po di pulizia e secondo me l'hacker guarda guarda drizzle con il suo piccolo fortissimo guarda l'occasione dietro dietro e ma l'erre non non fa più danno legno adesso con due colpi si si fidati che fa più danno è una roba assurda e anche divertente comunque vai trader vai spaccano di botte a erralo abbiamo vinto 1 a 1 e se l'ultima sfida vediamo cosa servo servono in servono bravo tutto secondo i piani la vita del tuo account sarà decisa in base a pari o dispari allo sconcare delle 18 e 10 scrivere a pari o dispari in chat dovrei fare pure tu lo stesso se indovini tocca sarà salvo in caso contrario beh sai già cosa accadrà allora se ho capito bene tra quindici sì ma è infatti è tardi riservere pari o dispari in chat dispari di anche io mancano pochissimi seguiti mancano qua 6 secondi 54 43 2 1 no 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 ragazze calvi scriviti di calmarci al hacker l'ho verso l'account lo bene non penso che accada veramente c'è secondo me è un buffone ti consiglio di goderti le tue ultime 24 ore con il tuo ma io spero stia scherzando speriamo no a parte secondo me non stava scherzando comunque l'account di Braga gli eravamo veramente rubato però da qua a cancellarlo secondo me ne passa di acqua sotto i conti speriamo perché sennò ha perso le skin i balli tutto ma anche un po' il legame affettivo però no non penso non penso allora raga vi aggiorneremo io non penso che vi rubi veramente l'account intanto come se lo vedo già blu draider potrebbe essere comunque mi sa che non ti conviene entrare a far guardare i miei video ti succedono cose brutte comunque grazie a tutti per la visione codice calpis e negozi oggetti noi ci vediamo in un prossimo video sperando che non caccia di veramente l'account ciao 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 ciao